Musica Le prime notizie che si hanno di Mussolente risalgono già al primo secolo dopo Cristo, ma è dall'epoca della dominazione ezelina che si cominciano ad avere più tracce e maggiori informazioni su questo territorio che si sviluppa nei secoli fino ad arrivare ad avere l'aspetto attuale nel Novecento. Proprio a quest'epoca sono dedicate numerose ricerche, poi divenute vere e proprie pubblicazioni, frutto della passione di misquilesi innamorati della loro storia e del loro paese. È il caso ad esempio di Paolo Meggetto, autore del libro Memorie del Novecento. È un libro nato grazie alla volontà del gruppo Alpini di Casoni che voleva raccontare la storia socio-economica del paese partendo dalle osterie inizialmente e poi si è allargato a tante altre cose come l'agricoltura e l'artigianato. Infatti Mussolente ha sempre ruotato attorno al discorso dell'artigianato e all'acqua che è la sua fonte primaria. Grazie alla presenza dell'acqua di canali specialmente della roggia a Volong che dal Medioevo fino ai primi del Novecento si lavorava su diversi opifici a forza idraulica come i molini per la macinazione dei cereali, i malli per la battitura del ferro, una segheria alla veneziana e soprattutto i numerosi folli da panni lani che servivano per l'infeltrimento dei tessuti di lana. Ed è proprio attorno a queste attività che sorge il paese di Mussolente come lo conosciamo oggi. Non era formato come qualsiasi altro paese attorno alla chiesa ma era una sorta di serie di borghi lungo tutta la corrente della roggia a Volong, da nord a sud. Lì dove c'era il lavoro, dove c'era l'acqua, nasceva anche la popolazione, c'erano le case, quindi l'usteria, il forno e quant'altro era necessario per la vita. Poi c'era qualche casa sparsa sulle coline, le ville. Ma a memoria del Novecento è solo una delle pubblicazioni realizzate grazie all'interessamento degli alpini di Casoni. Questi libri contano alcune storie di Mussolente oppure particolari come la storia del bandito Bedin, il Robin Hood del Veneto o altre storie che ci riguardano più in generale la zona nei dintorni riguardo al periodo della resistenza, quindi il Monte Grappa, i partigiani sul Grappa o altri aspetti di quel periodo. Proprio il campo di aviazione è uno dei luoghi che meglio raccontano una delle pagine più significative della storia di Mussolente, il primo conflitto mondiale, al quale in occasione del centenario l'amministrazione ha dedicato una lunga serie di eventi e manifestazioni. Qui a Mussolente abbiamo organizzato tantissime cose, proprio per ricordare il periodo del centenario della Grande Guerra. Molte sono state le iniziative che abbiamo portato avanti assieme, in modo particolare, al gruppo alpini di Casoni. Sono state realizzate e fatte delle pubblicazioni, in modo particolare per quello che ci riguardava da vicino, ovvero il campo aviazione. Il campo aviazione di Casoni è stato uno dei più importanti, proprio perché si trovava ai piedi del Monte Grappa, quindi strategicamente un luogo molto interessante per riuscire a dare supporto alle truppe. In più anche il fatto che era esattamente in contraposizione al campo aviazione di Feltre, che si trovava dove in questo momento c'è l'ospedale, che dava supporto alle truppe austriache. Nel dicembre 2018 l'amministrazione, assieme agli alpini del gruppo Bortolo Busnardo, ha inaugurato un monumento situato proprio in via campo d'aviazione, dove un tempo sorgeva l'aeroporto delle vicinanze di Palazzo Comello Bergamo. Un tempo Villa Barbieri. Qui durante la Prima Guerra Mondiale decollarono verso il Grappa e il Montello alcuni degli assi dell'aviazione dell'epoca. In questo campo sono usciti tre assi fondamentali, tre personaggi che assieme a Baracca hanno collezionato un numero importante di vittorie. Noi come amministrazione e come gruppo di ricercatori abbiamo fatto uscire un volume che parla proprio del campo aviazione. Nel corso del 2017 abbiamo realizzato una mostra nella vecchia sede municipale che parlava proprio di questa parte un po' sconosciuta del primo conflitto mondiale che era proprio l'aviazione. Eccole le immagini del monumento realizzato da Gabriele Todesco e inaugurato a fine 2018 grazie alla collaborazione tra amministrazione e gruppo Alpini Casoni. Allora quando l'amministrazione comunale ci ha proposto di realizzare questo monumento siamo stati entusiasti e ci siamo andati a fare per realizzarlo e finalmente l'abbiamo realizzato dopo cento anni dalla fine della Grande Guerra. Fondamentale è stato proprio il supporto del gruppo Alpini. Grazie anche a un progetto che abbiamo presentato assieme all'Unione Montana la Regione ci ha riconosciuto un finanziamento per cui si sono liberate anche delle risorse per poter realizzare appunto quest'opera che per noi da adesso è proprio un motivo di vanto proprio per l'importanza del luogo. Dopo un secolo dunque il campo di aviazione di Mussolente ha avuto il riconoscimento che meritava e l'intenzione ora è quella di farlo conoscere anche al di fuori dall'ambito massanese. Siamo in collegamento prossimamente con altri 92 aeroporti che vennero edificati nella Prima Guerra Mondiale. Questo era uno dei primi, era in posizione avanzata perché era in prima linea come diceva anche il professore prima, proprio sotto il Monte Grappa, sotto la propagine del Monte Grappa. È stato importante e nacque come appunto, che diceva il generale, come ricognizione. Normalmente il campo di aviazione nasce attorno a un palazzo, a una villa padronale e un terreno solido sul quale realizzare una pista e moltissimi campi a Nove, a Castel di Godeo, a San Pieringù, eccetera, a Quinto, di Strana, sono nati proprio così. Attorno a un palazzo, una villa settecentesca, ottocentesca, eccetera, e un terreno che permettesse il decollo e quindi la possibilità di costruire una struttura che servisse a supporto del fronte. Questo nasce a supporto della Quarta Armata del Grappa. Difatti nasce subito dopo la Straffa Expedition, c'è la battaglia combattuta sul alto piano di Asiago e nel giugno, maggio-giugno del 16, quando ci si rende conto che c'è necessario un raccordo fra l'altopiano, il Grappa e il Piave, perché poi sarebbe arrivato Caporetto e purtroppo questo era il destino di questo territorio, in sostanza. Una lezione di storia, dunque, è quella che è in grado di fornire da sola quest'area storica di Mussolente, diventata negli anni meta di studenti ed insegnanti. Visitare il via Campo di Viazione, come gli altri luoghi del nostro territorio così ricco di storia, significa far ricordare loro, far venire alla memoria che loro, ripeto, sono qui, grazie ad altri giovani, ma soprattutto vuol dire conoscere la propria storia per sapere dove andare nella propria vita. Proprio per educare alla storia i più giovani da sempre, l'amministrazione guidata da Cristiano Montagnar organizza incontri, eventi e manifestazioni che permettono a bambini e ragazzi di comprendere meglio e più facilmente il loro passato. Un esempio è la rievocazione dell'eccidio di cinque misquilesi ad opera delle truppe napoleoniche, avvenuto il 2 febbraio 1797. Un salto indietro nel passato di quasi 200 anni, organizzato da amministrazione comunale e comitato per le celebrazioni storiche. Un salto indietro nel passato di quasi 200 anni, organizzato da amministrazione comunale e il comitato per le celebrazioni storiche della milizia, e che ha visto arrivare a Mussolente i figuranti del primo reggimento Veneto-Real e una delegazione di Sciuzze Nasburgici. Numerose anche le mostre organizzate sul territorio comunale, come quella allestita in municipio, in occasione della giornata della memoria e della giornata del ricordo. Questa mostra, realizzata con delle illustrazioni realizzate da Manuela Simoncelli, in arte Manu, illustrazioni che sono state fatte per poi essere inserite in un piccolo volume che si intitola La bambina del treno, un libro scritto da Lorenza Farina. Con questa piccola mostra siamo riusciti a portare qui moltissime classi, sia delle scuole elementari di Mussolente e Casoni, che anche delle scuole medie. Il messaggio rivolto ai ragazzi con la mostra è chiaro. Delle immagini fortunatamente non aggressive si è comunque riusciti a trasmettere il messaggio della brutalità di quel periodo, che parla sia della giornata della memoria che anche della giornata del ricordo. Proprio ai giovani l'amministrazione di Mussolente ha scelto di dedicare ogni anno un importante momento istituzionale, che ricorda una pagina fondamentale della storia italiana. Quel 27 dicembre 1947, giorno in cui venne promulgata la Costituzione italiana, che ogni anno viene consegnata a tutti i neo-diciottenni del Comune. Diciamo che è un appuntamento importante, perché avvicina il diciottenne, avvicina il giovane a quello che è la società civile, ma quello che è soprattutto anche oggi il ricordo di una storia, di una storia fatta di sangue, ma oggi di una storia fatta di agio. E quindi loro devono sapere che sono cittadini e che devono mantenere quello che gli è stato donato, quello che gli è stato salvato, quello che da sempre vivono e che magari forse non conoscono. Un piccolo simbolo, un piccolo ma importantissimo simbolo, che vogliamo lasciare, che abbiamo sempre lasciato anche negli anni scorsi, a tutti i diciottenni. È il momento in cui diventano, tra virgolette, autonomi, quindi devono essere coscienti di quello che fanno, devono essere protagonisti del loro tempo, devono conoscere anche quali sono i loro doveri, perché non dobbiamo pensare che esistano solo i diritti, ma ci sono anche dei doveri ben precisi per essere cittadini italiani.